Sono venuta oggi a farvi vedere come prepariamo il granchio. Il granchio è conosciuto qua e abbiamo l'usanza di mangiarlo lesso. Prendiamo una bella pentola larga e alta e mettiamo il sale, il coperchio e laviamo, laviamo in abbondante acqua corrente se avrai bisogno perché viene dalla palù del granchio e queste pinzette possono farvi veramente del male. Certamente conoscete il granchio ma non avete in tutta Italia l'abitudine di mangiare come noi con qualche condimento abbiamo messo un po' di prezzemolo, un po' di sale e adesso con i granchi lavati benissimo che a volte bisogna usare anche un spazzolino per lavarlo perché vive nella palude. E allora questi qua sono anche piccoli ma per farvi vedere come mangiamo e ho fatto questo video qua. E quindi dopo lavato mettiamo in pentola e mettiamo acqua prima di coprirli bene 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 bene. Purtroppo li mettiamo vivi che è così che si cucina i crostacce. È un crostaccio molto apprezzato qui in Brasile, in tutto il Brasile. Qua in questo momento abbiamo messo a cuocere il fuoco alto. Quando diventano così rossi sono pronti per la tavola. Qua in questo momento? Qua in questo momento? Grazie a tutti. Di solito mettiamo anche la farofa, che è la farina di magnoca, e un po' di vinagrette, ma poi essere accompagnato con tante altre cose. E da bere sempre la birra fresca, e questi qua sono i taglieri, no? Il legno, che facilitano, questo è mio papà, e che facilitano ad abbrire il granchio per mangiare e degustare benissimo la sua carne meravigliosa. Spero che vi sia piaciuto il video, io sono in Brasile, e vedete delle cose un po' personali. Ciao ciao, al prossimo video!